Il figlio di Meghan Markle del principe Harry ha battuto i figli di William e Kate per un nuovo titolo.La nascita di Archie Harrison Mountbatten Windsor ha suscitato più interesse online di quello di qualsiasi altro bambino reale, rivela una nuova ricerca. Il giovane ha fatto esplodere le ricerche online di Royal Baby a quasi 30 volte il volume medio.Nel maggio 2019, le ricerche di Royal Baby Sono salite alle stelle del 2700% al momento della sua nascita.Significa che Archie prende il titolo di Royal Baby più ricercato. I dati di ricerca di Archie hanno buttato fuori dall'acqua altri bambini reali, causando oltre il 1700% di interesse in più rispetto alla seconda nascita reale più influente, quella della principessa Charlotte nel 2015. Il figlio maggiore di Meghan, 40 anni, e Harry, 37. Ha ottenuto il primo posto in uno studio condotto dagli esperti di assistenza all'infanzia Little Once London, che ha analizzato i dati globali di Google Trends per le principali nascite reali negli ultimi 8 anni.Un portavoce di Little Once London ha commentato i risultati. Ogni nascita reale è motivo di celebrazione e grande eccitazione, e i bambini dei membri più importanti della famiglia reale hanno sempre un effetto sismico sul pubblico. Con milioni di persone disperate di conoscere ogni dettaglio. Il fatto che la nascita di Archie Harrison, il primo genito del duca e della duchessa del Sussex, abbia suscitato più clamore online rispetto alla nascita di qualsiasi altro figlio reale, rivela il costante fascino che il principe Harry e Meghan Markle suscitano in ogni ambito della vita. Come primo royal baby di razza mista, la nascita di Archie Harrison ha fatto scalpore in tutto il mondo. E il fatto che il suo arrivo da solo abbia causato una tale esplosione di interesse online suggerisce che potrebbe avere un'enorme influenza in futuro, se avesse scelto. Tuttavia, con il sano atteggiamento che il principe Harry e Meghan Markle hanno nei confronti del diritto alla privacy dei loro figli, è probabile che crescerà ben protetto dal bagliore dell'interesse pubblico. Tuttavia, con l'interesse pubblico.